Nelle ultime ore, un evento tragico ha scosso la vita della nota conduttrice televisiva Ilari Blasi, lasciandola in uno stato di profonda angoscia e dolore. Le lacrime della Blasi sono diventate il simbolo di un dramma che ha coinvolto direttamente la sua amata figlia, gettando nell'incertezza e nella disperazione l'intera famiglia. Le circostanze precise di questo evento devastante non sono state ancora rese pubbliche, ma fonti vicine alla famiglia hanno rivelato che si tratta di una situazione estremamente delicata e dolorosa. Ilari Blasi, nota per la sua forza e determinazione, si è trovata improvvisamente ad affrontare una prova che nessun genitore vorrebbe mai affrontare. Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto da questa notizia, con molti colleghi e fan che hanno espresso il loro sostegno e le loro preghiere per Ilari e la sua famiglia, in questo momento così difficile. L'intera comunità dello spettacolo si è unita nel mandare messaggi di solidarietà e conforto alla conduttrice, dimostrando quanto sia amata e rispettata nel mondo dell'intrattenimento. Mentre la Blasi e la sua famiglia affrontano questo doloroso percorso, l'intera nazione tiene il fiato sospeso, pregando per un lieto fine e offrendo il proprio sostegno in ogni modo possibile. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda e per scoprire come Ilari Blasi affronterà questa prova con la sua consueta dignità e coraggio.